Dicevo prima con Marco Muralia, che è il nostro prossimo ospite, mi sarebbe piaciuto entrare con un salto mortale in avanti, ma non volevo perdere il microfono, quindi questa era la mia tipologia. A me colpiscono sempre, se hai la tecnica giusta, puoi fare delle cose che uno non saprebbe come fare. Allora, partiamo con i dati, AudiWeb, abbiamo il presidente di AudiWeb, Marco Muralia, e lo ascoltiamo con attenzione. Un applauso, Marco Muralia. Ciao Marco, benvenuti a tutti qua. Buongiorno a tutti, devo dire che quando mi hanno switchato a post coffee break o ieri ho tirato un sospiro di sollivo, perché venire dopo il profeta sarebbe stato un problema, non solo tricologicamente, ma diciamo in generale sull'exciting dei contenuti. Io invece faccio il termometro, racconto un po' di numeri. Faccio una premessa, cioè vi ricordo quello che fa Audi. Audi fa una rilevazione oggettiva dei dati, quindi rappresenta un fenomeno da un punto di vista numerico, fornisce una currency al mercato, per currency si intende una metrica che quindi viene condivisa e utilizzata dalle parti e cerca di essere appunto super partes. Per super partes penso che sia importante ribadire il concetto, questo è un paese GIC, quindi con delle Audi. In questi giorni c'è stato un grandissimo dibattito sui dati di terza parte, sulla misurabilità, sulle dichiarazioni, noi cerchiamo di essere non solo terza parte, ma di essere super partes, quindi interpretare l'esigente del mercato in senso pieno. Faccio soltanto un'altra premessa, che è legata a un po' di discussioni che ci sono state in questi giorni. Abbiamo letto su alcune testate economiche di settore non, con un aspetto legato alla rappresentatività di audio rispetto ai fenomeni, eccetera. Vi propongo questi dati che sono da un'analisi del solo PC, quindi diciamo di una old, molto old economy. Nell'osserazione completa dei dati una testa corrisponde quasi a otto cookie, e questo lo dico perché abbiamo letto anche purtroppo su degli operatori online, che quindi dovrebbero avere un'idea di cosa si parla, e invece apparentemente siano distratti della distanza che c'è tra la quantità di cookie che riferiscono gli analytics rispetto alle teste. Con questa premessa vado a raccontarvi invece qualcosa dello scenario italiano. Partiamo dall'audience più generale, quindi dagli 11 fino ai 74 anni. Voi sapete che noi abbiamo sia una ricerca, sia una ricerca di base, quindi mettendo insieme i dati che arrivano dalle due a due fonti, noi abbiamo la possibilità di dire che in Italia c'è circa 61 milioni di abitanti, ce ne sono oltre 42 che possono connettersi a internet, che comunque è un passo avanti rispetto ai trend recenti. Di questo diciamo che se noi guardiamo un dato estremamente rilevante, rispetto a quello che il profeta ci raccontava prima su nove generazioni, che poi modificano i contenuti facendo saltare Trump anziché il cane, di questi la quasi totalità sostanzialmente ha un dispositivo per accedere, quindi in termini di come possiamo raggiungerli da un punto di vista di comunicazione. E di questo quasi l'88% è rappresentato sostanzialmente dallo smartphone come possibilità. Allo stesso modo diciamo il tablet per circa la metà. Se andiamo a guardare quelli che sono i device connessi, noi vediamo fondamentalmente che ci sono circa il 74%, quindi 35 milioni e mezzo, vale sia per il pc da casa che cellulare e smartphone, dove c'è una staticità o un leggero decremento da parte dei primi e invece un incremento da parte, a più di due cifre, da parte dello smartphone, che quindi continua a crescere. Mentre diciamo gli altri dispositivi sono tutto sommato più contenuti, anche se pensiamo alla televisione, quindi chiaramente non è più la televisione come la intendiamo, ma una televisione che è connessa, comunque rappresenta una quantità di milioni estremamente rilevanti e con dei tassi in crescita, mentre in qualche modo le console giochi hanno avuto una contrazione. All'interno poi, diciamo dell'analisi, dal punto di vista dei nuclei familiari, noi vediamo che la quasi totalità delle famiglie è connesse da almeno un device, rispetto a questo, che comunque è aumentato ulteriormente, queste sono variazioni negli ultimi tre anni, e andando a vedere una famiglia media di tre persone, voi sapete che è quasi tre individui per famiglia, la media delle famiglie, guardando questa famiglia di tre persone, vediamo che è aumentato di quasi un device, ancora una volta, diciamo in tre anni, che è un dato estremamente significativo, perché appunto passare da tre a quattro, da quasi tre a quasi quattro, è decisamente significativo. L'altra cosa che sicuramente è estremamente rilevante come dato, è il fatto che c'è una certa staticità della total audience, se non per l'incremento, che invece è aumentato attraverso l'utilizzo da mobile. Più del 35%, questo invece in soli due anni, quindi diciamo un trend estremamente significativo. Questa distribuzione è diversa chiaramente per le classi di età, tendenzialmente direttamente proporzionale o inversamente proporzionale a quanto le persone sono giovani come tendenze, come numeri stiamo parlando comunque di ordini di grandezza di entità estremamente rilevanti, per i 18-34 anni sono comunque oltre 8 milioni in Italia. La ripartizione geografica sostanzialmente è abbastanza simile negli ultimi due anni tra le regioni, forse con il nord est che ha un leggero decremento. Se andiamo a guardare nello specifico del solo mobile, vediamo una situazione comunque altrettanto potente, quindi appena sotto agli 8 milioni per i 18-34 anni e invece tendenzialmente tutte le regioni in crescita, e anche il nord est che se ricordate nella tavola precedente aveva un leggero decremento. La fruizione appunto del mobile only incrementa e chiaramente però c'è anche ancora un uso piuttosto significativo del PC. Ci sono degli utilizzatori di solo PC, ci sono degli utilizzatori di solo mobile, tendenzialmente appunto nelle classi più giovani, che sono quelli esplosibili. E l'insieme diciamo di questo provoca un incremento a più di due cifre, più del 12%. Questo è una variazione dell'ultimo anno. Cos'è che si fa fondamentalmente diciamo online? Un quarto scarso è da PC e tutto il resto è da mobile. Rispetto a questo, chiaramente, ma lo abbiamo anche già sentito dal tricologicamente mal consigliato, le parti di app sono estremamente rilevanti, il mobile browser è decisamente meno significativo. Un piccolissimo flash, voi sapete che la metodologia attuale, o comunque se non lo sapete, ve lo dico adesso, di Audi non è in grado di riferire e il traffico delle in-app al publisher, all'editore che ha prodotto il contenuto, diciamo in modo coerente con quello che sono i dati di base. Abbiamo fatto però una survey parallela attraverso DAR, quindi numeri non sommabili, ma che comunque proiettano dei numeri estremamente significativi e abbiamo potenzialmente la dimensione del fenomeno. Quindi comunque ci sono, diciamo anche solo per quello che sono gli instant article che abbiano elevato in audio, delle cifre estremamente significative, quindi un fenomeno decisamente cruciale. Diciamo che riguarda i contenuti, e qui la proporzione è di quello che si fa prevalentemente sul PC rispetto al mobile, quindi sicuramente è una frizione quasi paritetica di portali generalisti, le news hanno una prevalenza su PC, i siti adult perché mi dicono che non possiamo mai scrivere porno, ma comunque diciamo contenuti adult, il gioco d'azzard, le lotterie sono ancora molto PC driven e la stessa cosa per i servizi bancari, probabilmente anche legato alla sicurezza che le persone hanno nel momento in cui fanno questa operazione. Per converso dall'altra parte la chat è un fatto, a parte diciamo un 1% che non lo fa attraverso mobile, è fatta da mobile, il social network chiaramente pervasivo, il gioco online da mobile, i video sono decisamente prevalenti, i motori di ricerca sono consultati per i tre quarti da mobile, e anche gli acquisti in line sono prevalentemente, già questi sono dati di questi anni più recenti che abbiamo, prevalentemente fatti da mobile. Chiaramente nel corso della giornata gli argomenti che si consultano nei due casi sono diversi, nel senso che chiaramente ci sono delle fruizioni all'inizio del mattino magari con news e information da PC, così come ci sono news e information alla fine della giornata da mobile, quindi vedete che siamo in grado anche di capire in base agli interessi quando andare a cercare persone in base ai contenuti. Le tipiche tre clusterizzazioni per quello che ci riguarda sono tra millennial, generazione X e boomer, si vede che ci sono delle differenze dalla presentazione 70 al 38, ci sono diversi parametri e sicuramente questi sono estremamente rilevanti per quando bisogna andare a approcciare target diversi, quindi di quanto tempo spendono su diversi tipi di situazioni. Vedete, vi segnalerò in particolare il dato del giorno medio per i millennials, due ore e dodici, ora chiaramente magari rispetto a una casalinga inglese che continua a guardare la televisione quattro ore o un italiano che la guarda tre ore, sembra ancora poco, però è veramente un casino di tempo, quindi c'è modo sicuramente di valorizzare questa situazione. L'altra cosa rilevante è un confronto che ci siamo permessi rispetto a quello che tipicamente è l'asset principale in questo paese, diciamo che se ne guardiamo il totale della popolazione c'è un leggerissimo calo delle quantità e c'è un incremento significativo del digitale, della fruzione di internet. Se guardiamo sul tariff sicuramente 18-34 anni vediamo che ha raggiunto e sorpassato la televisione, quindi è un luogo sicuramente in cui andare a cercare questo tariff che è estremamente rilevante poi per i consumi e per le aziende. Concludo solo con una spiega di dove siamo e come stiamo evolvendo la ricerca, noi abbiamo fatto parecchi passi che nel tempo hanno portato a introdurre e a coprire le nuove situazioni in realtà in particolare fino a quello che è stato il grande sviluppo del mobile e adesso ci troviamo davanti a quella che è tipicamente la prospettiva. in questa situazione che è complessa diciamo noi stiamo cercando di studiare una ricerca che vada a rappresentare il totale del mercato, quindi che dia la condizione, che crea la condizione perché anche gli OTT facciano parte della pubblicazione di questa ricerca, perché voglio ricordarvi che gli OTT sono rilevati ma non sono pubblicati e quindi quello su cui stiamo lavorando. La seconda cosa su cui stiamo lavorando è trovare un bilanciamento tra il concetto di panel che è il caposaldo storico che continua a essere un elemento importante però rispetto ai big data abbiamo sentito già stamattina quale sia l'importanza delle informazioni che arrivano. Rispetto alla pubblicazione che oggi noi facciamo da un punto di vista di nastro e di altri dati che ha una periodicità più lunga, ci stiamo impegnando per un dato daily che probabilmente non riuscirebbe a essere come quello della televisione 10 della mattina del giorno dopo, ma riuscirebbe a essere comunque quello del giorno dopo. Penultimo, vi avevo già accennato quando avevo raccontato a proposito del mobile dove eravamo, sicuramente avremo una ricerca in cui rispetto a quella attuale che dà delle informazioni di pre avremo anche la possibilità che questa si parli con una post o che si parli con le post, con le n post che possono essere fatte in questo mercato. E in ultimo abbiamo appunto sentito di quanto è importante lo sviluppo futuro di quanto è importante la profilazione ci stiamo attrezzando per essere preparati in modo che questa, che il nostro ambiente inteso come il dato audio possa essere diciamo co-protagonista del mondo delle DMP. Non intendiamo fare una DMP come audio ma intendiamo avere una meta DMP o essere pronti a avere una meta DMP che informa a sua volta delle altre DMP e raccoglie dati da delle DMP. E' un lavoro piuttosto oneroso perché appunto si tratta adesso di traguardare il futuro. Sentivo parlare poco fa che ci vuole coraggio di innovare ma noi essendo un Audi dobbiamo farlo anche all'interno di determinate regole di mercato e dell'autority. Questo è quanto io vi ringrazio e vi passo al prossimo. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.